Ciao a tutti ragazzi, sono Salvatore e oggi voglio fare la sintesi della partita di Napoli a Naune. Comunque il Napoli in questo match conclude vincere la partita per ben 10 a 0, fa una bellissima partita e ci fa divertire, infatti nella prima pressione di gioco il Napoli chiude il primo tempo per 4 a 0 con la prima rete di Rachmani, poi segna Quarasque, Quaraschelia, Anguisse e poi di nuovo Quaraschelia e si conclude così il primo tempo per 4 a 0. Comunque nel secondo tempo Spalletti mette un'altra formazione in campo, infatti Spalletti ha fatto una prima squadra nel primo tempo e la seconda squadra nel secondo tempo. Nel secondo tempo il Napoli segna un'altra volta con Zerbini, poi Osimen, doppietta di Politano e poi Ambrosini che però ha un calcio di rigore, che lo sbaglia e poi dopo si riscatta segnando un altro gol. E poi mi sono dimenticato di dirvi che loro fanno anche un'autorete che in Napoli comunque conclude per 10 a 0. Comunque è una bellissima partita, questa è bella, è una squadra di eccellenza, una squadra mediocre questa a Naune, però il Napoli ha fatto la sua partita, infatti mi sono meravigliato molto con questo Quaraschelia che è un bellissimo giocatore, ha delle doti, mi piace come fa il gioco. Comunque speriamo bene e la prossima partita dobbiamo giocare contro un altro Amichelo con il Perugia. Comunque vi posso dire ragazzi, io mi sono divertito un mondo e spero che questa sintesi vi sia piaciuta, sperando che la prossima partita questa amichevola contro il Perugia e il Napoli farà divertire un'altra volta. Non dico 10 a 0, però segnerà dei bellissimi gol. Adesso è venuto questo video e vi lascio la buona serata. Comunque se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti e forza Napoli. Ciao. Ciao.